Piante sane, robuste, eccezionalmente pure, col seme madre riportato alle caratteristiche originarie. I coltivatori del celebre peperone di Altino, prodotto tipico e originale d'Abruzzo, per accrescere e garantire ulteriormente la qualità delle coltivazioni, si sono affidati alla micropropagazione, specifica tecnica impiegata in tutti i settori della coltivazione dei vegetali, dalla frutticoltura alla floricoltura, dalla viticoltura all'orticoltura. Dalla selezione del miglior seme, in ambienti sterili e in assenza di virus, malattie o batteri di qualsiasi tipo, si moltiplicano piante della stessa qualità, sane e dalla straordinaria produttività, una garanzia di qualità fotosanitaria e genetica. La micropropagazione è stata affidata ad apice piante di ripa teatina, che è una delle più grandi e moderne aziende vivaistiche d'Italia, l'agronomo Cecilia Di Primio. La pulizia del seme avviene attraverso una serie di procedimenti di sterilizzazione del seme stesso che lo garantiscono in maniera sana e quindi esente da virosi e batteriosi. Quindi abbiamo preso dei semi da delle specifiche piante che non hanno subito impollinazione con altri peperoni vicini e a questo punto abbiamo pulito il seme, l'abbiamo portato in laboratorio e l'abbiamo messo su un substrato artificiale, come in questo caso, come si può vedere. Il substrato artificiale cos'è? Non è altro che un terreno di coltura dove sono messi tutti gli elementi necessari per la coltivazione, quindi azoto, fosforo, potassio, calcio, ferro, e che aiutano la pianta a crescere e a nascere. Con questa tecnica qui avremo tutte le piantine uguali tra di loro, quindi saranno dei cloni e non più dei semi dove appunto ci sono delle differenze tra tutte le piantine. Dal 2017 è stata fondata un'associazione di tutela del peperone dolce di Altino, nello specifico l'associazione autorizza l'uso del suo marchio esclusivamente alle aziende che osservano il disciplinare di produzione stabilito dall'associazione stessa. Ogni anno tutti i produttori selezionano le migliori piante dalle quali ricavare i semi per la stagione successiva e la micropropagazione rappresenta una garanzia in più. Coltivato in otto paesi del bacino, la richiesta del peperone dolce è sempre più crescente. E allora piante robuste e produttive. I produttori. Nel tempo abbiamo visto che abbiamo molte malattie che colpiscono questa pianta e poca produzione, avremo poca produzione. Quindi ci siamo rivolti alla vice piante per una ripulitura del seme, visto che abbiamo saputo che col carciopo di cupello già hanno fatto questo tipo di lavoro e la resa è stata migliore. E noi vorremmo conservare questo tipo di prodotto. L'aspetto è qualcosa di nuovo, qualcosa di più pulito, si rinnova il seme, il peperone, avendo sempre la stessa qualità, diciamo sempre, il peperone di Galtino. Però pulito è un vantaggio per il coltivatore e per la produzione. L'anno scorso eravamo 9 produttori, quest'anno ne siamo 19, quindi vuol dire che si riesce a crescere e ad aggregare sempre di più dall'agricoltura al sociale, cioè nel senso l'economia che si sviluppa nel territorio. Quindi c'è una grossa richiesta del prodotto e dobbiamo sempre di più far conoscere queste eccellenze territoriali alla realtà globale. Grazie. 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 Grazie.